È scattata il 24 ottobre la mobilitazione dei sindacati di poste italiane contro la privatizzazione dell'azienda con l'ulteriore cessione del 30% e la riforma del recapito a giorni alterni. Per questo i rappresentanti e i lavoratori hanno indetto da una settimana il blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive che si concluderà il 23 novembre, mentre per venerdì 4 novembre è stato proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i dipendenti. I sindacati chiedono al governo che l'azienda non sia totalmente privatizzata, che sia mantenuta all'unicità sindacale, che si utilizzino gli utili di bilancio per continuare a migliorare i servizi e le condizioni di lavoro. Altro punto forte di attrito è la riforma del recapito a giorni alterni, come detto. La posta va recapitata tutti i giorni, accusano i sindacati, come afferma anche l'Unione Europea. La riorganizzazione della divisione di poste e comunicazione logistica deve essere fatta con investimenti mirati alla qualità del servizio, all'efficienza delle consegne, alla valorizzazione della straordinaria rete logistica dell'azienda. C'è un'enorme fetta di mercato da intercettare e solo piani mirati in quel senso garantiranno in futuro la solidità di poste e il mantenimento dei livelli occupazionali. I sindacati denunciano anche la questione carichi di lavoro massacranti per gli addetti agli sportelli e le pressioni commerciali al limite del ricatto subite da tutto il personale. In conclusione affermano che non si possono chiudere uffici postali solo perché in zone disagiate, inoltre non si può continuare a ignorare la necessità di personale agli sportelli e non si può trattare il dipendente postale come fosse un venditore a cottimo, spinto solo a collocare i prodotti in un'insana e inefficace rincorsa all'obiettivo di budget. Grazie! 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 Grazie!